dobbiamo riflettere più a fondo anche dopo le recenti esperienze siamo adeguati a questo siamo all'altezza di questo e poi ancora l'altra grande ragione quella che ci riguarda più da vicino e che deve farci riflettere la debolezza del nostro partito stiamo per toccare il fondo scusatemi l'espressione tre parole e le parole sono queste io sono qui io sono qui io sono qui e resto qui più determinato e più convinto di prima le dirò la sincera verità la sincera verità su di me sono figlio di gente molto ricca del middle west tutti deceduti adesso ho vissuto in tutte le capitali europee collezionando gioielli trofei di caccia dipingendo un po' poi scoppiò la guerra vecchio mio grazie a tutti grazie a tutti